Continuano le condizioni di stabilità e bel tempo su gran parte dell'Italia ma tra sabato e domenica tornano maltempo e temperature più fresche al nord che favoriranno lo sviluppo di temporali e grandinati breve ma intense. Sul resto del paese il bel tempo continuerà a essere assoluto protagonista benché accompagnato da temperature in leggera diminuzione al sud. Nel complesso farà caldo ma non in modo esagerato salvo qualche picco oltre i 35 gradi in Sardegna e in Sicilia.